Siete su Portofino Channel Direttamente dai Colli e Ugani Vipo Vianneo Ehh Dio Ecco la pasta Ehh Dio Ecco il fa esagerato il Vianneo Ecco il fa esagerato Ecco il fa esagerato Ecco il fa esagerare e la madonna scusa 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 come by your butt man peace love and peace scusa of course good though oh ho 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 e se pequeride e ricoglionito 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 nice salad beautiful 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 let's go No, è, basta allora. Un po' di più, eh? Per la... Per la Portofino TV Ciao Ciao, ciao See you, yeah